Sì, diciamo che è stato un periodo un po' sfortunato e diciamo che non ci voleva questo intoppo con la rottura del naso, però diciamo che sono contento per la continuità che stavo trovando in queste ultime partite, purtroppo c'è stato questo episodio e adesso dovrò farmi ritrovare pronto e dimostrare il mio valore. Sì, senza dubbio, quando sono arrivato avevo delle aspettative diverse, poi purtroppo ci sono stati degli episodi sfavorevoli, però il campionato è ancora lungo, mancano tre partite alla fine del giro d'andata e poi ci sarà tutto il giro di ritorno. Io lavoro duro, cerco di mettere in difficoltà il mister e ripeto, come ho detto poco fa, c'è tutto un giro di ritorno e spero di dimostrare il mio valore in quel giro di ritorno. L'infortunio al naso, poi magari quando la squadra fa bene, naturalmente la difesa fa bene, le gerarchie si formano e io sono rimasto un pochettino indietro, quindi diciamo che sono questi gli episodi che mi hanno... Io penso che il Pescara sia un'ottima squadra costruita per vincere, infatti la struttura del Pescara è una base solida della scorsa stagione, quindi molti giocatori che vengono da Serie A. Purtroppo in questo momento stanno raccimando poco, anche perché sono stati sfortunati e sicuramente il reparto offensivo è uno dei più importanti in Serie B. Sarà una partita molto difficile, dobbiamo stare molto attenti, concentrati e cercare di ripartire in contropiede, come abbiamo sempre fatto, diciamo che questa è un pochettino la nostra forza che ci ha caratterizzato in queste partite. Il Pescara sì, ripeto, è una squadra molto forte, è una squadra che attacca molto e difende in pochi, quindi noi dovremmo stare molto bravi a rimanere compatti e poi cercare di attaccare gli spazi vuoti che lasceranno. Sì, perché diciamo che queste partite piace a tutti quanti giocarle perché sono un motivo di visibilità, ti mettono a confronto con una realtà alta per la Serie B e quindi dai del 100% come in tutte le partite, però diciamo che queste partite sono un pochettino più importanti a livello magari mentale e ti stimolano un pochettino di più. È molto perché comunque soprattutto quando giochi una difesa a tre, giocare con un centrale mancino interno di sinistra, soprattutto nelle uscite, perché usando il piede predominante sinistro aiuta molto nella costruzione e quindi questo magari può mancare un pochettino a livello di impostazione. Ho già giocato la Cesena, mi sono trovato anche a mio agio, poi naturalmente usi di più il piede meno forte, però comunque ci provi e è il tuo aiuto, il tuo contributo alla squadra. Io quando ho fatto la scelta di venire qua a Novara ho deciso di venire qua e quindi non mi pento di questa scelta e rimarrò sicuramente qua a Novara perché comunque mi trovo molto bene con i compagni, col mister, con tutti quanti, quindi sono molto contento della scelta che ho fatto. Purtroppo, ripeto, pensavo di giocare un pochettino di più dall'inizio, cosa che non è successa fino a questo momento, ma spero di tagliarmi più spazio nel giorno di ritorno. Sì, sì, siamo scelto perché, ripeto, Novara ha un'ottima organizzazione, cose che in Serie B purtroppo si trovano in maniera molto difficile, però, ripeto, sono molto contento e adesso devo dimostrare il mio valore e basta. Tutti vogliamo essere in una situazione diversa, anche se non è una situazione negativa, però questo è un campionato strano dove le distanze sono veramente corte, quindi siamo lì vicinissimi alla zona play-out, siamo anche vicini alla zona play-out, quindi non ti puoi rilassare un attimo. Purtroppo, in queste tre partite che abbiamo avuto veramente difficili, io avrei sperato di, almeno una delle due partite in casa, di vincerla. Ci siamo andati veramente vicini contro l'Empoli e sarebbe stata una classifica completamente diversa. Però dai, questa è la situazione che abbiamo adesso, non bisogna disperarsi assolutamente, siamo tutti lì e adesso abbiamo, come avete detto prima, una partita veramente importante a Pescara, difficile, ma sono convinto che faremo un'altra delle nostre grandi prestazioni e tireremo fuori un buon risultato. Sicuramente è una squadra che attacca, che gioca un calcio molto offensivo e noi in quelle situazioni forse ci troviamo bene, perché ci difendiamo bene, compatti e poi ripartiamo in velocità, quindi io vedo che può essere una partita giocata in quella maniera lì. Queste due partite sono state diverse l'una dall'altra, con l'Empoli abbiamo giocato secondo me contro la squadra che ha giocato meglio al Piola, perché hanno grandi palleggiatori e in più hanno due attaccanti devastanti, quindi noi dovevamo stare molto attenti a non far arrivare palloni giocabili alle due punte e credo che da quel punto di vista lì abbiamo fatto un lavoro difensivo straordinario. Però purtroppo è vero che abbiamo creato poco, però loro ci hanno concesso poco. La Cremonese giocando in un modo diverso, più diretto, non è che ci ha creato tanti problemi, io in campo non avevo questa sensazione, però quando facciamo un errore lo paghiamo, in casa specialmente. Ogni volta che uno non va a chiudere un cross o ci addormentiamo, paghiamo, paghiamo col gol e quindi veramente si fa dura ribaltare le situazioni perché le squadre qua si difendono benissimo e è difficile trovare spazi. Già noi che abbiamo i nostri problemi per creare occasioni si fa veramente difficile. Poi io analizzando dico come mai non riusciamo in casa a creare di più, a fare di più, tu vai a casa e dici cavolo forse le squadre avversari giocano bene, giocano meglio, dopo mi riguardo le partite ma loro non è che giocano meglio di noi. Sono veramente partite che non sono belle da vedere, dove le squadre vengono al Piola, sembra per difendersi e pareggiare e poi si vedono questo tipo di partite qua. Quindi non so se dovremmo cambiare noi qualcosa sicuramente perché noi vogliamo vincere in casa, vogliamo che il nostro pubblico sia contento e adesso purtroppo non sta succedendo. A livello tattico come noi la prepariamo la partita avviene, poi il problema è che come ti ho detto prima non riusciamo mai gli undici o i quattordici che giocano a fare la partita completa. C'è sempre qualcuno che fa un errore che ci costa caro, non abbiamo quel senso del pericolo a volte che bisogna avere in questa categoria. Per esempio l'altro giorno, io per esempio potevo andare a stoppare il cross di croce prima, quando me lo sono rivisto ho detto cavolo forse potevo andare prima, invece ho aspettato, lui ha crossato, ha fatto gol. Cose così che dici, dopo come fai? Dopo devi fare due gol al Cremonese che si difendono in undici, non è facile. Quindi non lo so, forse sì, forse è più una cosa mentale. Io penso che anche dopo il derby si sia spezzato qualcosa e noi dobbiamo cercare di ricucirlo perché era un'opportunità per portare più gente allo stadio, non ci siamo riusciti e anche l'ambiente non è il migliore. Quindi sta a noi, alla prossima in casa col Perugia, cercare di fare qualcosa di importante, di portare la gente, di farla star bene e contenta.